Il padre del giovane cantante scomparso anni fa non ha avuto delle belle parole per Federico Lucia, in arte fede. Questa volta la situazione nasce da un fatto di gossip. Il rapper milanese è stato visto insieme all'ex fidanzata di Michele Merlo, Luna Shirin Rassia. Fino a qui non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che il padre del ragazzo ha deciso di attaccare, ai limiti della denuncia per diffamazione, l'ex marito di Chiara Ferragni, senza apparente motivo. È giusto notare che l'uomo non menziona esplicitamente il rapper, ora celebre sulle copertine italiane ed è scritto come un sex symbol. Tuttavia è evidente che il padre di Michele Merlo si riferisca proprio a lui, considerando le foto recenti di Fedez e Luna che girano sui siti di gossip. Nonostante nessuno abbia accostato Fedez alla memoria dell'artista scomparso il 6 giugno 2021, Domenico Merlo ha comunque deciso di lanciare una critica al rapper. Su social media il signor Merlo ha dichiarato Michele era un cantante, suonava, scriveva, cantava e recitava. Era un artista, onesto, leale e buono. Michele era romantico, ma soprattutto Michele è stato un grande uomo. In aggiunta ha affermato non accetto nessun accostamento con questo pseudo omino imbrattato e senza palle. Ognuno è libero di fare ciò che vuole della propria vita. Buona vita o buon gossip, ma lasciate fuori Michele che di questo individuo non ha mai condiviso nulla, nemmeno la crema per i piedi. I commenti e le condivisioni sui social hanno diviso l'opinione pubblica. Alcuni ritengono che le parole del signor Merlo siano giuste e dovute, mentre altri le vedono come una manifestazione del dolore per la perdita ingiusta e incolmabile di un figlio.